Capito, ti stai chiedendo, ma che posizione si sceglie quando ti scopi una che ha la gamba ingessata fino all'inguine? No, non me lo stavo affatto chiedendo, Jeffrey. Si deve provare, sì, andare per tentativi. Mi spieghi come fai ad avere tutte queste donne? A pensarci bene? Non sei bello, non sei intelligente e non ti lavhi. Invece sei invadente e egocentrico e poi sudi come un maiale. Allora fammi capire che cazzo hai di speciale, Jeffrey. Di speciale? Niente. Però ho due cose che molti uomini non hanno. Io ho la curiosità e il tempo. Vedi, Shane, io dedico un sacco di tempo alle donne e alla fine è questo che le lusinga. Sto alle loro costole continuamente. Posso starci anche sei mesi, ogni santo giorno del cazzo. Capisci? E non si concedono per sfinimento, no, no. Si concedono perché non credevano di valere tutto questo tempo. Capito ora? Più o meno. E la curiosità invece? La curiosità è la benzina che ti tiene in vita per quei sei mesi. Sai chi ha detto la zorpetta un attimo prima del mio orgasmo? Ansimato, finisci sul gesso, voglio che mi lasci la firma. La firma, ti rendi conto? Sono cose che ti arricchiscono queste. Sì, che ti arricchiscono queste. E qui ti arricchiscono questa. Tutti?